sta tarantella a vostri reservari a tutti i ministri pari pari per vivere seppure non ti ballare sono bravo quanto sono non ti robare ma ci ballo faccio di martino che pigliare la crisi è sempre il primo faccio le spalle a Peppe e i ragazzi con due bottiglie di vino mi si parte questo è un larganetto è un pace eterno io avevo cent'anni che roba nel tuo governo mentre venisco questo tamburetto è inutile il curico io lo faccio italiani attaccateli questo giro è riservato a due deputati vecchi starà a seguire i busti l'apparecchi da sta giurata ciasi mancini chi sono dell'autostrada atti a Pampani come per la sorda è lunga sempre i mani a per il pietro a per il pietro a per il pietro che scegla a per il pietro un po' a per il pietro e all'autostrada inutile a per il pietro a per il pietro Sto giri miliardi è riservato alla marfa con Bignardi. E per finire amici e pietti, trasmapà, lorreo e rilassi i piedi. Grazie a tutti.